Celebrerà la Capitale Europea della Cultura con un'immagine di Matera, la nuova tessera del socio Proloco 2019. È stata presentata la card che sarà distribuita a tutti gli associati d'Italia, 600.000 quindi gli esemplari stampati. L'iniziativa rientra nell'intesa fra l'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia e la Fondazione Matera 2019, che prevede una serie di azioni finalizzate alla promozione del patrimonio materiale e immateriale della Basilicata e alla divulgazione del programma di eventi allestito per l'evento che comincerà il 19 gennaio prossimo. E per approfondire l'argomento abbiamo invitato in studio proprio il presidente delle Proloco della Basilicata, Rocco Franciosa. Presidente, buonasera. Cominciamo dalla tessera del socio. Allora, perché è importante per far conoscere ancora di più Matera 2019? Sì, grazie per l'invito. La tessera del socio 2019, celebrativa di Matera, capitale europea della cultura, è un regalo straordinario e di questo ringraziamo l'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia. In verità è un secondo regalo che l'UMPLI fa alla Basilicata e a Matera. Dopo il presepe vivente nei sassi più grande del mondo, ora celebriamo la tessera del socio dedicata appunto alla capitale europea della cultura. Un'occasione per promuovere non solo Matera, ma per promuovere l'intera Basilicata. Sarà distribuita alle 6.200 Proloco e ai 600.000 volontari sparsi in tutta Italia. Io credo che vada dato merito all'UMPLI di questa straordinaria attenzione per il binomio che ci lega appunto a Matera, capitale europea della cultura. E a questo proposito, quali sono gli altri eventi che l'Unione delle Proloco ha pensato per l'appuntamento del prossimo anno? Con l'APT, la Regione, il Comune di Matera e la Fondazione Matera Basilicata 2019, l'UMPLI sta organizzando per il 24, 25 e 26 maggio il raduno delle Proloco Lucane allargato a tutti i comitati d'Italia per mettere in mostra non solo la Basilicata con l'immenso patrimonio materiale e immateriale, ma anche il resto d'Italia. Grazie a tutti.